Oggi viene approvata nella Commissione competente una risoluzione di cui sono il primo firmatario assieme ad altri colleghi della Lega che impegna il Presidente della Regione Abruzzo e il Sottosegretario di Annuntis a chiedere alla società che gestisce l'autostrada dei parchi di sospendere i cantieri nei fine settimana. Questo perché ci siamo resi conto che con l'attuale ripresa del turismo che si sta avendo, grazie a Dio, nella nostra Regione si creano delle file chilometriche, delle perdite di tempo impensabili che sicuramente non fanno bene alla nostra offerta turistica. Riteniamo quindi che l'autostrada si debba organizzare per far sì che dal venerdì pomeriggio per tutta la giornata di sabato e fino alla domenica sera i cantieri non indispensabili e ovviamente quelli che non mettono in pericolo il trasporto all'interno dell'autostrada vengano sospesi. Penso che l'autostrada ci dovrà dare una risposta perché sarebbe inconcepibile che in una fase di ripresa perdiamo il turismo per questi problemi. Tra l'altro non si capisce come mai questi cantieri che erano del tutto prevedibili non sono stati attivati nel periodo del lockdown durante il quale il traffico sull'autostrada era pressoché nullo.